E' tornata a riunirsi la rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO nel tardo pomeriggio di martedì. E' stato giudicato il mandato del direttore generale Giovanni Caruso che il prossimo 31 maggio lascerà l'ASL VCO, ma soprattutto se parlato di ospedale unico, indicato dallo stesso Caruso il nuovo crono programma. Entro fine maggio SCR decreterà quale dei tre progetti presentati è il più idoneo. A giugno la proposta di SCR verrà valutata dall'azienda sanitaria in base ai suoi bisogni. Nel momento in cui ci sarà la scelta del progetto anche la rappresentanza si riunirà e subito dopo verrà convocata la conferenza dei sindaci. Le tempistiche e le modalità di lavoro non hanno soddisfatto appieno i due sindaci ossolani della rappresentanza, ovvero Lucio Pizzi di Domodossola e soprattutto Alberto Preioni di Borgo Mezzavalle. Non se ne può più di semplici parole, ha detto quest'ultimo. Abbiamo bisogno di documenti concreti. Il nuovo crono programma mi pare ricco di incognite e probabilmente non verrà rispettato come quelli che l'hanno preceduto. E poi non si è ancora pensato a cosa fare delle strutture ospedaliere esistenti. Come lega restiamo dell'idea che bisogna potenziare ciò che attualmente c'è sul territorio. Nel momento del giudizio sull'operato di fine mandato di Caruso la rappresentanza si è divisa. Voti favorevoli del presidente Gianni Morandi di Gravellona Toce, di Silvia Marchionini di Verbagna e di Giacomo Archetti di Vignone. Ha stenuto Pizzi, contrario Preioni. Stimiamo le competenze e le qualità di Caruso ma gli obiettivi del suo mandato non ci trovano favorevoli. Hanno affermato i due sindaci ossolani. Il mancato voto positivo ha acceso un po' gli animi. Dovete giudicarmi per cosa ho fatto, non per gli obiettivi che mi sono stati imposti da altri enti. Ha replicato Caruso. In chiusura di riunione, aperta anche ai referenti dei tre presidi sanitari, presente solo Gian Domenico Albertella per il Verbano, assenti Giorgio Ferroni per l'Ossola e Roberto Neri per il Cuso, si è iniziato a ragionare per un cambio di regolamento per far sì che non accada più di avere una rappresentanza senza una delle tre città simbolo della provincia. E proprio a tal proposito, già nel 2019 si vorrebbe reintrodurre Romegna, anche perché tre delle cinque amministrazioni dell'attuale rappresentanza scadranno Gravellona Toce, Verbagna e Vignone.